Mancate promesse partendo il giorno Facciamo così Facciamo Voi mettete le mani a casa 3, 2, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Cosa? Non ho capito Mi fa così? Poi ci faccio il tuo mano No, ci faccio il tuo mano E' svelta 3, 2, 1 Buongiorno ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati qui per un nuovissimo video Questo video si tratta di un video molto 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 Bello Giulia pulisci un po' qua Ma perché lei è la signora delle puliziere Allora vi presento Giulia la signora delle puliziere Venga venga del video Allora Questo è complicato Quindi ti devo aiutare Perché tu non sei buono In realtà stai facendo tutto l'elte Mi ha detto vado a fare i video Ti insegno io Allora prendi il cucchiaino Prendi il cucchiaino Prendi il tuo cucchiaino Abbassa la mano Scusa Scusa Si Andiamo avanti Andiamo avanti dai Allora prendi il cucchiaino Prendi il cucchiaino Prendi il bicchierino Prendi il bicchierino Metti un po' d'acquino Metti un po' d'acquino Metti un po' d'acquino Mescola mescolo, 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 metti un pochino di acquina, sto mescolando, metti un po' di collina, un po' di collina, si mette un po' di montagnina a posto di collina, collina, montagnina, collina, non ha capito la battuta, non la dico più, non la dico più, l'ho capita da sola, scusate, attenzione Giulia, questo qua con calma, allora, era un litro di colla, l'ho usato quasi più Giulia, questo qua probabilmente è un'invenzione di larghe che come al solito da anni, va bene dai, su Instagram piace uno slime, metti un po' di acquina, basta, 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 no non basta, ho detto che devi mettere l'acquina, l'acqua con la colla non si va a fare, mesci fuori qui non basta, no, prendi un po' di acido un po' di colla, permetti, permetti, guarda, 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 chi è il genio dello slime, chi è il genio, lei è il genio dello slime, questo è l'acqua slime, mettiamo un altro po' di acqua, water slime, water slime, tre colori slime, water slime, mi piace un altro po' di acqua, secondo me, no, acqua, Giulia, non è quello che ho fatto, no, guarda un momento, giro, questo esce fuori, voi mi stanno guagottando, mi stanno imbrogliando per dire che lo slime non è venuto e alla fine hanno vinto loro, quindi voi in ogni caso votate sempre me, perché loro sono due, guarda, loro usano questo materiale, usalo, metti un altro po', no, altro po', Giulia, guarda, pensa allo slime tuo, ognuno pensa agli slime suoi, fatti gli slime tuoi, io mi faccio smagli, a me mi sta venendo un'acqua slime, metti un altro po' di acqua, no, a me non c'era niente, non voglio dire il termine, non ti piace, guarda che bello il primo, il secondo, la colorata, fai dopo, la colorata, fai dopo, la colorata, se non è un altro po' di acqua? no, no, sì, perché lo viene meglio, no? no, ma deve essere acqua, oddio, perché ti viene tutto tipo uso? ma è tipo un po' di acqua, no, un po' d'acqua devi mettere, no, te l'ho messa tanto, esce fuori, no, devi mettere l'acqua, perché devi mettere l'acqua, hai i tuoi ingredienti, devi mettere l'acqua, devi mettere l'acqua, devi mettere l'acqua, non ci sei finita, l'ho messa l'acqua, l'ha messa anche Giulia, perché deve venire acqua slime, voglio dire, dopo, noi dopo sai che facciamo? No, togliamo il tutto da mezzo, poi lasciamo tutto così, bisogna dire, facciamo, facciamo tutto così, bravo, l'ho ammazzato, ma i papacos, ma l'ho ammazzato, ma l'ho portto il mio è bellissimo, ma c'è ma che house, ma che è lui? guardate il mio è bellissimo, ma l'ho provato, guardate qua che me l'ha fatto combinare, ma no, vedi altri. ma non è che è venuto brutto, è solamente che non viene acqua slime perchè questo è acqua slime dammi un po' di acido aspetta un po' di acido ciò penso che a me mi sta per venire perchè è un po' di costi però non è ancora altro voi miscinate tutto andiamo a provare cosa succede sei vero vai a far vedere tre gocce di questo guarda giuro Guarda giuro guardate giuro è tornato un pezzo di colma sei un pezzo di me sei un pezzo di me ah 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 sei un pezzo di me sei un pezzo di me sei un pezzo di me mi arrendo questo non è perché mi arrendo questo te lo puoi tenere papà questi devi fare ragazzi a me mi farò veramente questa si chiama melma non è vero come si fa su slime butta acqua butta acqua effetti guardate un po si però non è quello che è raga però che schifo dai dai un po' giù la no così dai in modo che una doccia aspetta giù stup dai stup allora questo era il video no felice oltre ci avete visto per chi dopo torna mamma e ci distrugge sicuri quindi sarà probabilmente l'ultimo video guardatele bene babbo a me non c'è ancora venuto tu ti sei riso noi no non è venuto non è venuto non è venuto guarda vedi la rima come si fa a fervi a mettere l'acqua di Michelangelo vedi guarda 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 un po' sei un person sei un pezzo 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 guarda Giulia pensa allo slime tuo per niente te lo devo rovinare c'è raga ma è strano stu coso papà smettila allora domani vi avremo un canale da solo fare il tutorial non capito tutto secondo te mi piace tipo come un luogo mi sono divertito ma perchè non mi viene ma nemmeno l'acido solamente guardate un po mettetemi l'acido papà lasciato papà lasciato papà lasciato no papà non ci lasciato voglio sapere che ho fatto di male a partecipare in questo video dai partecipare in questo video allora diceva lei tre gocce di slime tre gocce di colla due gocce di acqua non ti è venuto niente no non ti è venuto quello che doveva venire ho mescolato tutto guardate un po che spettacolo guardate un po si lo è spettacolo della natura raga ma a me è venuto è venuto è venuto è venuto che è venuto mamma sta venendo mamma sta venendo mamma non è nessuno giulia acido borico giulia giulia marghe dai basta dai è finita dai è venuto con il muso nooo non sta troppo si dai oh my gosh oh my gosh oh my gosh qui mammi mammino dove sta la mamma siamo pronti? nooo siamo pronti? mamma ma chi lo toglie? vai negli occhi stop stiano vai negli occhi stop calma abbiamo finito calma stop freeze stop va bene dai come è diventato verde dai possiamo salvare si si dai raga ma guardate che ho proprio venuto scusami 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 dai siamo pronti? si allora 10.000 like entro 3 giorni eh 3 giorni entro un giorno eh si si vabbè 10.000 like entro una settimana 2 settimana entro una settimana faremo un altro video io e mamma vs margaretina guardate raga c'è vinto vinceremo noi allora babbo pronti? raga ma dai che proprio 3 cifo che viene da verde si comunque è diventato un alieno 3 2 1 go quindi ragazzi questo era il video spero vi sia piaciuto mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram margitjulia kawaii reddito basso ho bisogno su facebook margitjulia kawaii reas secondo dalle margitv in realtà margitjulia kawaii se volete le macchie le poverle i tacci i fuscili e fattissime altre cose anche a loro due e andate su www.margitjulia kawaii.it le portano a casa direttamente con tutto lo slam vengono se vi andate su margitjulia kawaii.it le prendete le prendete le prendete le prendete le prendete e per iscriversi al canale andate su basta andare sul tasto scrivetelo sotto al video cliccarlo farlo diventare grigio attivare la campanella e da lì per divertire e chi c'è scritto? non fate niente controllate solo che avete attivato la campanella perchè il giovedì alle 21 faremo la like e poi alle 9 uscirà sempre ogni video alle 9 del mattino a volte cambiamo orario oppure mettiamo un video all'improvviso e quindi se avete la campanella sarete sempre avvisati se non volete essere avvisati non la attivate però attivate altrimenti venite ok? ok se il video vi è piaciuto lasciate no vi ricordo che io Marghe insieme a voi formiamo la magic family cioè amore puro se avete piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale condividete dappertutto se non vi è piaciuto l'ều vedrete Grazie a tutti.